La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa. Partiamo con il mattino in apertura a gas, il disgelo Draghi-Putin. Telefonata tra i due leader, Mosca continuerà a garantire forniture regolari all'Italia. L'impegno a far calare la tensione in Ucraina, intanto lo sconto del 10% sulla prossima bolletta. Sotto la testata, la cronaca strangolata dal vicino di casa inquilino del padre. Succede a grumo nevano, ha reagito all'attentativo di violenza sessuale. Le testimonianze e gli amici della vittima, un'imprudenza affittare l'abitazione a quell'uomo. E poi ancora cronaca, stuprata a 15 anni alla festa di classe, arrestato il compagno a Reggio Emilia. Andiamo su centropagina, siamo la vostra terza dose. Sarremo al via, il rompefiorello, ironia sui complottisti. I partiti da rifondare di mai allo scontro, Salvini in difesa, il ministro con Raggi e Belloni, sfida Conte, i governatori leghisti processano il leader. Di taglio basso, a Maddaloni annunciano due volte il decesso, ma era un errore l'ospedale che resuscita i morti. Covid, le nuove regole, green pass illimitato per chi ha il booster, l'evidemia sta calando. E poi a Salerno, ladri di rifiuti, nuovo blitz, sacchi sventrati di notte, denunce e dossier ai giudici. Questa era la prima pagina in primo piano, l'abbiamo visto dall'apertura. Putin chiama Draghi, Mosca garantirà il gas russo all'Italia. Nel colloquio telefonico il Premier chiede di attivare una descalation in Ucraina. Biden parla di fumo negli occhi e rilancia le forniture alternative, ma il Qatar frena. Mario Draghi chiede a Vladimir Putin di adoperarsi per una descalation nella crisi ucraina. Il presidente russo, dopo aver illustrato al Premier italiano, le richieste avanzate da Mosca agli Stati Uniti e alla Nato in materia di sicurezza nell'est Europa, promette che continuerà a garantire forniture stabili di gas all'Italia. E questa è in estrema sintesi la sostanza del colloquio di ieri mattina tra Draghi e Putin. In la nota di Palazzo Chigi è Scarne, il presidente del Consiglio. Ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il presidente della Federazione Russa. Al centro del colloquio vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina e le relazioni bilaterali. Questo dice la nota. Lasciamo questa pagina. Rimaniamo ancora sul mattino. Parliamo di pandemia. Oggi la proroga del pass, l'obiettivo per l'estate, liberare gli asintomatici. La proposta del sottosegretario Sileri, ma il ministro frene ancora presto. In Consiglio dei Ministri ha atteso il decreto sulla carta verde perché il booster non scadrà dopo sei mesi. Il Consiglio dei Ministri oggi deciderà la proroga del Green Pass perché ha ricevuto la terza dose per evitare che a marzo e aprile milioni di persone si ritrovino con la certificazione scaduta. Anche questa mossa va nella direzione del processo di normalizzazione che ieri ha portato a ipotizzare di evitare l'isolamento e positivi asintomatici. Fino a qualche settimana fa un argomento di questo tipo non sarebbe stato neppure all'ordine del giorno. Ieri invece il sottosegretario alla salute per Paolo Sileri lo ha messo sul tavolo. Lasciamo liberi i positivi asintomatici, non chiudiamoli in casa, consentiamo loro di andare a lavorare. Fantascienza, il Sudafrica ad esempio, lo ha già deciso. Il positivo senza sintomi non deve più isolarsi. Anche l'Italia in realtà ha applicato una misura che non è così distante, che ha ricevuto la terza dose del vaccino ed ha contatto stretto di un positivo. Non deve restare in quarantena, ma seguire un regime di autosorveglianza, che significa fare attenzione e usare sempre la mascherina FFP2. Di taglio basso su questa pagina scuola, la quarantena sarà più breve alle elementari in dad con tre positivi. In arrivo le nuove regole allo studio, il rientro senza tampone per i contatti diretti con la terza dose. E poi la novità, vaccino per i neonati in arrivo in primavera, lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Andiamo avanti. Le tensioni dopo il Quirinale. La versione di Salvini sul veto al Premier, i timori di Giorgetti. Il leader al Consiglio federale, Draghi, poco amato, non poteva essere presidente. Anche i governatori chiedono un cambio di passo all'esecutivo. Polemica con Toti. Salvini non si esce dal governo, ma nel Consiglio federale della Lega il sottosegretario e i suoi fedelissimi non hanno certo avuto parole di apprezzamento per l'esecutivo. Salvini ha ripercorso le trattative sul Quirinale, ha spiegato i motivi per cui si è arrivato al Mattarella bis. Ho dovuto decidere solo in pochi minuti. Sono il leader e devo prendermi le responsabilità. È stata la soluzione migliore. Mattarella non è contrario al nostro progetto sull'autonomia, ha argomentato, sottolineando che il suo unico punto fermo era il no su Draghi. È arrivato a suo dire non solo da parte del partito di Via Bellerio, ma dall'intero Parlamento. Draghi non poteva essere il nostro presidente, non è amato, non solo all'interno della Lega deve rimanere a Palazzo Chigi, ma è proprio sull'operato dell'ex numero uno della BCE che sono emerse le differenze tra il leader e il fronte che unisce il governatore e il ministro Giorgetti, i quali hanno rimarcato come l'ex banchiere sia un fattore di stabilità con i presidenti di regione che però allo stesso tempo hanno auspicato un cambio di passo. Cambiamo argomento, parliamo invece del Movimento 5 Stelle. La mossa di Di Maio, asse con Raggi e Belloni per respingere Conte, la direttrice del DIS, incontra il ministro e spegne le polemiche, amicizia solida, vertice con l'ex sindaca, i due garanti dei 5 Stelle con Fico potrebbero sfiduciare l'avvocato. Prima un lungo incontro con l'ex sindaco, Virginia Raggi, e poi un pranzo con la direttrice del DIS, Elisabetta Belloni dopo il presunto linciaggio social subito nei giorni scorsi e i ripetuti attacchi frontali scagliati da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio è passato alla controffensiva. Il ministro degli esteri ha assestato in rapida successione due colpi al leader 5 Stelle. L'è telefonata anche con Appendino, una risposta al riavvicinamento tra l'ex premier e Di Battista. E con questo lasciamo il mattino, ci spostiamo sulla città. L'apertura, molestie sui figli l'assolvono dopo 15 anni. Un medico salernitano era stato accusato di abusi sessuali sui tre bambini, ma per i giudici d'appello il fatto non sussiste. Lo sfogo del professionista, la mia è una storia senza vincitori né vinti, non vedo i miei ragazzi dal 2009. Centropagina, con la fotonews, la salernitana fa sognare per otti undicesima perla, tutti pazzi per l'arechi. Di lato, nocera inferiore, colpi di pistola al bar della moglie del consigliere. A Scafati, muore in ospedale, indaga la procura. Eboli, loro guardano la tv, i ladri rubano in casa. A Salerno, vento e incuria, verde pubblico in ginocchio. Poi rifiuti in strada, sempre a Salerno, prime sanzioni ai ristoratori. Emergenza, pandemia, covid, i reparti, ora si svuotano, pazienti in calo. Ad Albanella, epatite letale da sangue infetto, lo Stato paga. Di taglio basso, battipaglia, prismian, crisi in confindustria. I sindacati chiedono un tavolo con Battista, 900 a rischio. I sindacati chiamano i vertici di Prismian e Confindustria. La vicenda dello stabilimento Fos di Battipaglia diventa a tutti gli effetti una vertenza. Ieri pomeriggio, sulle scrivanie di Valerio Battisti e Antonio Ferraioli, rispettivamente numero uno del gruppo Prismian e di Confindustria Salerno, è arrivata una lettera di CGL, CISL e UIL provinciali. Andiamo a Maiori. Depuratore, parte la sfida contro il no del Ministero. Lasciamo la città. Ci spostiamo su cronache. In apertura la politica. Il centrodestra in Frantumi. L'intervista a Cirielli che accusa Lega e Forza Italia alleati con la sinistra e il deputato di Fratelli d'Italia all'attacco sono attaccati alla poltrona, non lascerebbero mai la maggioranza. Sotto la testata il centrodestra in Frantumi. Quali sono le reazioni alle dichiarazioni di Cirielli, Polichetti, dell'Udc, Fratelli d'Italia, un partito fascista, Pierro della Lega, critiche ingenerose contro di noi. Andiamo sul centro pagina. Piazza della Libertà, la passeggiata dei salernitani Elio Rainone, sollecitati da padre Francesco, ristrutturiamo la chiesa di San Pietro. Di lato, 11 mila euro a Napoli scattano gli aumenti di stipendio per sindaco, assessori e presidente del Consiglio. A Salerno, a Baronissi, assolto dopo 14 anni, il medico non ha mai abusato dei figli. Pagani, carabinieri al comune, la maggioranza naspa e nega tutto. Festival di Sanremo, svetta la tromba del vietrese Sergio Vitale sul palco della Ariston e il green carpet, profuma di Cilento con Teresa Massanova. Di taglio basso, Salernitana, giocatore positivo. Domani, intanto, il sindaco Napoli incontra il presidente Iervolino. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Diamo la linea alla regia. Rieccoci, tornati in studio, riprendiamo la rassegna stampa con il mattino di Salerno. In apertura la pandemia, tutti col pass, buona la prima, controlli per entrare in negozi, banche e poste, poche code, ma non fermeranno i contagi. Carta green d'obbligo, i commercianti, un nuovo aggravio, parlano di un nuovo aggravio, penalizzate le piccole attività. E poi ancora pandemia, vaccino snobbato dagli over 50, mentre i positivi risalgono a 3.000. Di lato la bellezza sfregiata, Pontradolfo, Polo Museale, servono soldi e progetti veri. Centropagina salernitana, il Covid, torna a colpire un altro calciatore infetto, Perotti e Radovanovic, voglia di riscatto. Sempre sul centropagina, l'ambiente, ladri di immondizia, nuovo blitz dei vigili, il dossier ai giudici, controlli sui raid notturni. Denunciati tre stranieri, sanzioni a tre locali, Napoli e Tringali, incivili anche i salernitani. Ancora ambiente, piazza della Libertà, rifiute plastiche, il terriccio invade il tubo di scolo. Di lato la politica a centro-destra, Cirielli strappa, mano libera nei comuni. Le infrastrutture, alta velocità, il Vallo di Diano ottiene la fermata, ora anche Sapri. E lasciamo la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo a vedere, abbiamo visto la politica, nel centro-destra, lo strappo di Cirielli. Voto nei comuni, fratelli d'Italia, le mani libere, il questore della Camera, l'alleanza non esiste più. Dopo il voto per il Colle, l'ironia di Casciello, di Forza Italia, nulla di nuovo, ha sempre lanciato prima i suoi candidati. Amministrative, centro-destra diviso, fratelli d'Italia sul piede di guerra. Acque agitate in casa centro-destra dopo il Mattarella bis, che di fatto ha mandato in frantumi l'alleanza dei partiti di centro-destra con i Meloniani, che non hanno sostenuto la riconferma del presidente uscente, ed è scontro. Non parteciperemo a nessun vertice provinciale. L'alleanza di centro-destra non esiste più, non abbiamo obblighi. Lo annuncia Cirielli, che intanto ufficializza il candidato sindaco di Agropoli. Replica a Muso Duro, a Tilio Pierro, coordinatore provinciale della Lega Salerno. Non accettiamo accuse di tradimento da chi ha rotto i tavoli, minando alle basi della coalizione. Mentre la Forza Italia, il deputato Gigi Casciello ironizza, Cirielli non dice nulla di nuovo. Ha sempre fatto così, prima ha lanciato i candidati e poi ha coinvolto gli alleati. Credo che l'obiettivo sia piazzare un po' di bandierine sull'onda lunga del consenso. Si appella ai coordinatori provinciali dei partiti, il segretario dell'Udc, Ernesto Sica. Mi affido al senso di responsabilità dei segretari di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, affinché si possa costruire insieme una coalizione forte. Mi auguro che la situazione si raffreddi e che non ci siano forti ripercussioni sui territori. Ad Agropoli, in campo Abbate, Pierro della Lega, abbiamo visto, non accettiamo accuse di tradimento. Invece l'Udc invita all'Unità. E lasciamo questa pagina. Rimaniamo sul mattino, parliamo di infrastrutture. Nel Vallo di Diano, alta velocità, il Vallo si aggiudica la fermata Sud Roma più vicina. La stazione tra Padula e Buonabitacolo, vicino all'autostrada Matera. soddisfatti dall'ok al piano RFI, ma non ci fermeremo. Sarà il Vallo di Diano, la terra di fermata dell'alta velocità. Lo studio di fattibilità indica un'area tra Padula e Buonabitacolo, nella zona sud del comprensorio, come luogo destinato ad ospitare la fermata dei treni super rapidi che collegano Salerno a Reggio Calabria. L'asso lo ha calato il consigliere regionale Corrado Matera, che ha pubblicato in anteprima il documento di RFI. Il piano di fattibilità tecnico-economica relativa al primo sublotto Battipaglia-Romagnano ha scritto «Conferma quanto sostenevo, come si vede dai documenti, nella relazione generale sull'intero progetto dell'alta velocità. La stazione sarà nel Vallo, nei pressi di Padula e Buonabitacolo, non lontano dallo svincolo autostradale. Non possiamo che essere soddisfatti di questa nuova tappa raggiunta, ma non ci fermeremo nel seguire. Il progetto, fino alla sua realizzazione, contrastando qualsiasi azione da tempo diretta, ha indebolito la tenuta del progetto. E intanto, Golfo, il comitato di lotta riaffila le armi. Il nostro territorio non può essere escluse e danneggiato da scelte politiche aziendali unilaterali. Il Cilento e il Golfo di Policastro non si fermano davanti alla concreta possibilità che il nuovo tracciato per l'alta velocità escluda entrambi i territori. Sabato, la questione sarà affrontata in un incontro pubblico organizzato dal comitato di lotta a Sapri. Andiamo ora ad Eboli, il manifesto del Cavaliere contro il rifiuto selvaggio. Cerchiamo di tenerla pulita. Il monito lanciato in questi giorni da Giuseppe Barra, storico volto della comunità ebolitana, che ha deciso di far sentire la sua voce dopo l'ennesimo caso di rifiuti abbandonati per le strade del centro storico. Ad Agropoli, ladri sulla collina di San Marco, svaliggiate quattro case. Vallo della Lucania, patenti facili, condannato il colonnello, no corruzione. Sicignano degli Alburni, addio al Duca Giuss, ultimo latifondista, donò il castello, oggi è un polo culturale. Battipaglia, il comune, senza toghe, avvocato, nuova proroga. E lasciamo con questo il mattino. Andiamo su cronache. In primo piano da Salerno, marcia a piedi puliti, seconda operazione, multati titolari di tre attività ristorative. Le persone squarciano le buste di raccolta dell'indifferenziato per rivendere materiale ferroso o abbigliamento. Salerno Pulita e il comune hanno presentato un primo esposto. I ristoratori invece avevano ammassato decine di bustoni tra cartone e plastica. Baronissi non ha mai abusato dei figli, assoluzione bis per un medico. Dichiarato inammissibile l'appello della parte civile, tutto era nato da una denuncia presentata dall'ex moglie. Dopo 14 anni dall'avvio dell'iter processuale, la parola fine. Il fatto non sussiste. Già in primo grado, l'uomo era stato assolto dalle infamanti accuse. Accusato di violenze sessuali, ai danni dei figli. Assolto perché il fatto non sussiste. Un noto professionista della Valle dell'Irno. Una sentenza che è giunta a 14 anni di distanza dall'avvio dell'iter processuale. Finalmente, la parola fine ad un incubo durato troppi anni e che ha avuto non poche ripercussioni sulla carriera e sulla vita del professionista. Un camice bianco. La Corte d'Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello, l'unico della parte civile che è stata condannata alle spese. A Capaccio. Lividi sul viso all'asilo, archiviate le accuse a carico della maestra. Trata la decisione del GIP del Tribunale di Salerno che ha accolto la richiesta del PM. La maestra aveva eseguito una manovra per non far soffocare il piccolo. Rofrano, ragazzi in Francia, per discutere di imprenditorialità. E poi la viabilità, alta velocità, l'alta velocità passerà e si fermerà nel ballo di Diano. I primi lotti finanziati con i fondi PNRR sono la Salerno Battipaglia-Praia e la Potenza Battipaglia. E termina qui la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, vi auguro buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti